Giovedì 14 aprile 2016 siamo a Roma alla Casa dell'Architettura. Più di 200 tra architetti e progettisti hanno partecipato al convegno dal titolo l'edilizia di domani tra innovazione e sostenibilità. Moltissimi temi trattati, molte anche le aziende presenti che hanno avuto modo di presentare i propri prodotti ad architetti e progettisti. Vediamo l'intervista che abbiamo realizzata. La CVR è un'azienda appunto di gubbio e quindi noi come ricercatori del CIRIAF Università di Perugia la aiutiamo ormai da vari anni per sviluppare materiali ad elevata efficienza energetica con un approccio un po' più innovativo probabilmente e per cui ci focalizziamo sull'ottimizzazione del comfort abitativo sia il regime estivo che il regime invernale. Il regime estivo lo facciamo sviluppando per loro dei materiali di impermeabilizzazione di copertura quindi che si chiamano monotex sun reflex che sono in grado di riflettere la radiazione solare e quindi minimizzare il carico termico entrante durante l'estate quindi quello che poi grava sulle nostre teste che quindi la sensazione di calore viene assolutamente minimizzata. Allo stesso tempo secondo lo stesso principio abbiamo sviluppato insieme a loro ovviamente delle pitture per gli involucri quindi sempre involucri opachi delle semplici pitture diciamo da applicare su murature ad esempio che mantengono sempre queste temperature superficiali più basse e per cui evidentemente un livello di comfort abitativo migliore durante l'estate. Durante l'inverno invece loro hanno sviluppato appunto dei materiali assolutamente performanti che sono dei microintonaci e nanointonaci che sono in grado di deumidificare le diciamo le pareti migliorare quindi la condizione di comfort dovuta al fatto che si innalza la temperatura superficiale per cui la temperatura media radiante che influenza la percezione di comfort viene innalzata e per cui ne deriva diciamo il risparmio energetico dovuto alla possibilità a parità di comfort di abbassare la temperatura dell'aria. Questi materiali sono materiali che vanno in qualche modo un po' studiati va studiato va un pochino approfondito sicuramente il meccanismo di scambio termico su cui puntiamo per migliorare l'efficienza energetica degli edifici ed è fondamentale proprio perché anche in Italia stiamo in qualche modo ci stiamo accodando alle normative internazionali e l'ultimo odm quello del 26 giugno del 2015 in qualche modo specifica la necessità di utilizzare questo genere di materiali ad elevata riflettanza solare e per cui è già realtà sostanzialmente per cui il progettista stesso credo che sia interessato all'applicazione di questi materiali assolutamente innovativi ma che ormai sono diciamo alla portata di tutti. Pivore nasce nel 1980, costruzioni resistenti, vetro resistenti quindi eravamo già all'avanguardia a suo tempo. Io sono entrato circa 25 anni fa e ho trovato un'azienda protesa al futuro. Non solo dava risposte nell'immediato a problemi di malte, intonaci, collanti, rasature, prodotti di finitura, però intravedevo l'opportunità e la possibilità di spingere su quelle che sono le tematiche di oggi e che oggi ci portano qui a Roma. Una grande vetrina ma soprattutto una grande opportunità di parlare e di poter comunicare su quei momenti di eccellenza che si possono creare oggi in Italia nonostante le note crisi e quando questo è possibile? Quando c'è volontà di superare i limiti conosciuti, quando c'è il desiderio di sapere interpretare e al meglio ciò che oggi è credibile ed è possibile. Io mi sono affidato essenzialmente in questi progetti di bioedilizia, di risparmio energetico che mira soprattutto a un nuovo concetto, il comfort abitativo, così è trascurato sino a pochissimo tempo fa. Bene, sono questi i concetti che sapranno vedere quelle aziende vincenti qualora sappiano riuscire così come noi crediamo di essere riusciti a interpretare con pochi prodotti quei momenti che normalmente non trovano la soluzione e quindi riuscire a immaginare una rasatura che emette calore in quanto lo accumula, non solo non disperde calore ma addirittura lo accumula. Bene, questo è un modo nuovo che dobbiamo fare risparmio energetico, ottimizzazione ma soprattutto rendere credibile che cosa che si può vivere oggi, una vita che abbia senso, risparmiando e quindi rispettando tutto ciò che ci circonda, la nostra terra.